Dallo stand del dubbio siamo con il segretario dell'Associazione Nazionale Forense Giampaolo Di Marco, è stata la giornata del confronto sulle emozioni, domani sarà quella del voto e diciamo innanzitutto forse segretario che la quantità di questioni che sono state portate a questo congresso era tale che non è stato davvero semplice trovare lo spazio per tutto e arrivare a un risultato forse su tutto. Beh, non avevo pensato ad una logistica delle emozioni, visto che qui a Lecce il problema diciamo la questione è stata la logistica, però se dovessimo parlare di logistica delle emozioni dovrei dire che è andata benissimo perché 145 emozioni su 240.000 avvocati che potevano presentarle sono veramente una percentuale piuttosto risibile. Il problema non è tanto la questione della quantità, come sempre, ma la questione della qualità perché poi abbiamo avuto anche esperienze nelle quali saggiamente magari alcune emozioni dal punto di vista contenutistico sono state diciamo votate tutte quante assieme grazie all'intelligenza dei presentatori. Ce ne sono alcune invece che ahimè necessitano di un fisiologico approfondimento perché voi magari sono scomode politicamente, voi perché magari sono da comprendere meglio e da approfondire. Un congresso dove l'Assemblea è sovrana serve proprio a questo, serve ad individuare una strada, tracciare un percorso che può transitare attraverso il voto ma può transitare anche attraverso ad una richiesta di necessario approfondimento di alcune tematiche. Su tutte posso dirlo senza ombra di dubbio quello della legge professionale in virtù del quale credo che questo sia un congresso come dire se non ora quando. Io l'ho detto nel mio intervento e credo che questa Assemblea volente o nolente si deve assumere una responsabilità di dire all'avvocatura di oggi e a quella soprattutto di domani se questa legge professionale è da cambiare, quindi da riformare, ma questa è un'informazione che conosciamo dal 2012 oppure se questa legge professionale va bene. Sul tavolo ci sono tante emozioni, tante proposte di deliberati congressuali per essere fedeli al dettato della legge, spero che domani venga presa la scelta più saggia e più utile all'avvocatura di oggi, naturalmente allo stato dell'avvocatura di oggi perché abbiamo visto che in due anni ci sono stati cambiamenti che forse ce ne volevano dieci se non di più e ci sono stati sufficienti due anni, quindi allo stato dobbiamo iniziare un percorso ed avere la capacità strada facendo di capire se ci sono degli aggiustamenti, ma rimanere fermi come è stato dal 2012 ad oggi è un grave segno di irresponsabilità. Senta, segretario, tra gli obiettivi, anche quelli contenuti in queste emozioni, c'è forse quello di ritrovare il rapporto tra l'avvocatura rappresentativa e l'avvocatura di base. Le chiedo a che punto siamo lungo questo percorso? Allora, io personalmente ho fatto del mio mandato un mandato inclusivo, nel senso che ho voluto da subito far capire che ho il mio interesse a parlare con tutti. Il problema è che sto notando che non tutti vogliono parlarti, non tutti vogliono ascoltarti, c'è qualcuno al quale puoi parlare e qualcuno che non vuole ascoltare. Il rapporto con l'avvocatura istituzionale, per quello che mi compete, per quello che riguarda l'Associazione Nazionale Forense, oggi lo posso definire buono, anzi ottimo, perché nella Maria Masi, la Presidente, ho trovato una persona sempre disponibile ad ascoltare le nostre richieste, nell'uscente coordinatore dell'organismo congressuale forense Paparo e di estrazione dell'Associazione Nazionale Forense, quindi altrettanta disponibilità. Mi auguro che coloro che verranno, quindi il CNF che verrà e l'OCF, darà lo stesso ascolto a noi come a tutto il mondo delle associazioni, perché il nostro congresso di settembre, riferito a noi, ma con l'obiettivo che possa essere per tutti, insieme nella giusta direzione. Bene, bene, grazie davvero allora al segretario dell'AMP Gian Paolo Di Marco e quindi questa intervista ci prepara alla giornata finale, quella del voto sulle emozioni.